Ehi, saluto di gente, qua GK che parla oggi sono qui con una nuova puntata di Conquer Bad Fur Day. Nella scorsa puntata abbiamo fatto una grande parte del nuovo capitolo horror, ma non credo sia tutto. Quindi ora sono qui, siamo usciti da questa cascata e, che dire, non ho visto altro. Oltre che... oh! Oh, ora ho capito. Questa è la cascata del tutorial. What? Ecco, perché quel banconate non potevo prenderle. So che si sbloccavano in un altro capitolo, però non pensavo così. Ok, quindi è finita qua, immagino. Ah, mi devi rifare il tutorial, eh? Vabbè. Ok. Io odio... Ok, ora dove si è aperta la prossima strada? Vabbè. Grazie a tutti. 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 Ok. Immagino sia... Un towel defense? Un towel defense? Non lo so... Posso rotolarti? Posso rotolarti? Ha la meccanica... Una palla? Una palla ma... Sembrano inverse le cose. Oh... 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 Un'immagino... Un'immagino si debba difendere da qualcosa? Un'immagine non debba succedere quello... Oh... 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 Aspetta... I guess... Oh... Oh... È tutto pulito... Oh... 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 No, no Ah ruotate così Io che cacchio ne so Ok quindi non mi dovrei preoccupare Quanto tempo? Ok fammi vedere i prossimi ostacoli Quelli sono Solo quelli Ok Oh shit No no stai fermo Vediamo che strada fanno questi Semplice Sapevo io Ok immagini diverti buttare Non so se voglio Non so se voglio attivarlo o no Perché c'è anche un'altra direzione Quindi Magari vuol dire letteralmente Che saranno in entrambi le direzioni E l'altra era più per tutorial che per altro Perché sembra un po' troppo vuoto Quell'altra area Ma va fanculo Oppure no Oh Ok ora capisco dove sarebbe stato il difficile Forse Sono letteralmente mine Vive Vive Ok No eh Cosa No gioco Ok Chi cazzo poteva prevederlo Questo non lo so Nessuno merita che dovevo farlo Effettivamente Verete quello? Ora Muotando Non si vedete We cazzo sia no Ok Ok Bene Non era di sicuro Intuibile So che c'era questo Ma pensavo era Il tipico animale acquatico Che ti impedisce Di stare sull'acqua Tipico rare Giusto? Beh Non ho idea di cosa faccia quello Ma probabilmente Un modo per Attivare la stupida bomba Dall'alto Che dire Non intuibile Quello è sicuro Beh Tu statene lì E immagino che Probabilmente non lo so Una torretta O anche solo una fionda Per sparare da lontano Perché da vicino Non funziona Ovviamente Ah Non funziona Ok, cosa abbiamo qua? Ehm, great Ora ho paura che devo mandare qualcuno Devo mandarlo anche dall'altra parte Ma ci sono delle mine che sono tipo impossibili da evitare Proviamo a vedere cosa succede se io vado lì No, si attiva anche con solo la sua presenza Ehm 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 dannazione well no that's not easy vai stupido puzzle cavolo in 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 Ok, ottima introduzione a questo gioco, che dire, a questo capitolo Ehm, well, yeah, ha detto il sergente che ci avrebbe aspettato in una barca ed eccolo lì, infatti Oh no, somebody hit me on the head, huh, where am I? What's this doing on my head? Oh, hi guys, um, would somebody mind telling me what's going on here? Oh, well, let's help Ok, 30 seconds, nice knowing you guys How could you do this? Come here, let's help Is there anya? Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi hanno colpito la telecamera. Non ho... Non so cosa vuoi che faccio, non ho entrata. Quella lì non è entrata? Sì, stessa è entrata. Oh mio Dio. Ah, cacca, cacca. Credo che ci sia tipo una sorta di parete che se la oltrepassi ti ammazzano di brutto. Quindi per forza fare una sorta di percorso invisibile. Ah, cacca. Cacca. Gameplay nuovo Mi muovo normalmente Ok E si stavolta so che c'è un mirino E' un mirino effettivamente qui Yay Well dove mi devo dirigere Non sembra che io possa correre così Ok Qua si che serve bella minimap Ok Ci ho pensato però Boh Allora so che è molto difficile sta parte E per me anche il sfaccio era difficile Quindi ouch Non sembra se c'è modo pratico per colpire Ok E' strano adesso me lo lascio fare Prima no Ok Cazzo faccio qui Come occupisco fin alto senza entrare nel mondo del mirino Oh probabilmente mi posso muovere anche col mirino vero? Yeah Probabile Per qualche motivo non mi posso più muovere Resto Un asse di legno davvero? Oh no C'era un intercorso Au La cosa rimane comunque molto difficile Cosa mi viene qui si attosso? Ah Ora capisco Sei morto? Ok Ok man Tu stai continuando a spawnare però Wow What the fuck Oh mio dio Beh dovrò prendere Mano qua ai comandi Oiti Posso mettere via le armi? Ciao io corro via così Non so voi Ma io non ho nulla cazzo di voglia Da dove? Ho trovato un punto cieco? No ma forse non inquadrino S'incazzano L'impressione non mi capisco, ¿una qua? non potete capire con la mira d'apollo che ho che sarà un incubo su quest'area però perché non approfittarne quando vedo scappatoie insimili ci sato il gioco per questa prima stanza wow no non colpire i laser non serve tu sei l'unica cosa diversa che si può colpire però no sei solo un abbellimento cos'altro posso fare qua magari non è un laser che ti ammazza ma è un allarme che deve scattare per forza dubito c'è n'è più di uno oppure solo saltare I guess che mi vuol dire oh god questi uccido una coltellata e basta ma che cazzo può darsi che questa sia tipo più una missione del tipo non farti scovare che altro no mi hanno trovato comunque ciao beh sentite voi giocate solo con i coltelli quindi ok grazie forse non è una buona idea forse non è una buona idea non è una buona idea però non spawni stronzo devi per forza non capisco cos'è l'intento di questa stanza spawnano comunque a c'è poi non spawnano prima che arrivi così sembra sono l'unico che spara qua dentro vero no ovviamente non sono l'unico per questo avrò bisogno una mia un po' più ma minchia ma framerate invincibilità cazzo sapete quanto renderebbe il gioco più semplice ehi non mi hai fatto saltare via dalla telecamera what the fuck what the fuck perché hai cambiato prospettiva conquer ora devo riuscire a fare sto salto bene ho vita intera ok fai saltare queste due e voilà un cioccolato non l'ha presa in automatico poi possiamo prendere un altro ok bisogna strategizzare quindi non mi sarei aspettato oh oh si vede che sono arrivato a nuova area ok calmini ora però devo rimemorizzare tutto in qualche modo dovrò saperlo quella botola in cima lo sapevo non è quello che voglio conquer vai va bene tutto memory again wow no non rimanere clipato nella scatala stronzo questo è il cioccolato che mi devi ora sia scatola che pedano là sopra attiveranno qualcosa probabilmente certo avrei potuto pensare che avesserebbe arrivato dall'alto altri pedane ors cosa spunterà prima a seconda di cosa spunta prima dovevo puntare in due direzioni molto diverse allora tu spunterai dal lato immagino no che ho che ho letteralmente visto spawnare il gioco oh no dimmi che non devo fare niente io io Ok, interrompo qui Quindi così che è tutto Nel prossimo video Se vi è piaciuto like E arrivederci con ti Ciao ciao